ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come modificare le impostazioni e l'installazione delle applicazioni su windows 11 ovviamente quando andiamo ad installare una cosa ci chiede altro quindi se noi andiamo un attimo sulle applicazioni quindi installazioni applicazioni andiamo un attimo su app cliccate più volte su app finché non vi esce questa schermata andiamo un attimo su impostazioni avanzate per le app e come puoi vedere qui c'è scritto scegli da dove scaricare le app io ovviamente metto ovunque tanto a me le applicazioni non è che le trovo solo su microsoft store ma metto ovunque quindi le trovo dappertutto ma se vuoi microsoft store solamente ti consiglio questa allora solo microsoft store ed è anche una scelta consigliata da windows io ritorno ovunque ma ci sono anche altre opzioni tipo ovunque ma fammi sapere se c'è un'app comparibile 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 a comparibile ovunque ma avvisami prima di installare un'app non disponibile in microsoft store quindi io metto ovunque se volete mettere una di queste tre opzioni mettetela quella che vi piace di più quella che vi è più comodo quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao